Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News with no impact to your credit score. Then you can shop a nationwide inventory to find the car that's right for you and your budget. CarMax, the way car buying should be. See CarMax.com for more details. You hear that? That's the awkward silence of a family dinner. after you just got caught vaping. Most vapes contain high levels of nicotine and disappointment. Brought to you by The Real Cost and the FDA. Un calderone. Una miscela di roba che non ho capito dove vuole andare a parare. Ho parlato spessissimo di Elisa ultimamente perché sta bella in hype, fa continuamente cose, roba, dà spunti. Insomma, è uscito il disco, quindi non credo, diciamo, che adesso ci saranno tutte queste occasioni di continuare a parlarne da questo momento in poi. 3.700.000 ascoltatori mensili nel frattempo. Un salto, cioè quasi raddoppiato gli ascoltatori da questo Sanremo è perché si è mossa bene Elisa. Si è mossa benissimo anche il featuring Corcomi, eccellente mossa. Corcomi è uno che nelle piattaforme va da paura. Ma a parte questo, questo brano, veramente troppa roba, non mi piace, non mi piace. C'è qualità, quando fanno gli armonizzi lì, qualità pazzesca. Elisa, ne ho parlato, recuperate gli altri, gli altri podcast Elisa, non mi voglio sempre ripetere. Giorgia, una delle voci migliori in Italia, dopo Mina, Antonella Ruggero abbiamo Le Giorgia, no? E Elodie, che è ancora un po' più fresca a livello di età e di successo, però comunque voce pazzesca anche lei. E poi abbiamo Rochelle, che, insomma, si fa sempre riconoscere, si faceva sempre riconoscere per i suoi outfit molto provocanti su Instagram, mi ricordo. Però, insomma, si è distinta nel suo percorso X Factor per la voce, ecco. Se avesse fatto più musica di qualità, più canzoni significative, perché comunque ha sempre fatto canzoni superficiali, non sempre sempre, però quando lei ha una voce è una grande sensibilità, tra l'altro. Quindi, insomma, se le avessero preparato le giuste canzoni a Rochelle, chissà. Comunque, la canzone veramente non mi ha convinto perché mi è sembrato uno dai, regà, facciamo le matte, facciamo una canzone tutte insieme, sì, sì, un macello. Ovviamente sono quattro grandi talenti, quindi hanno fatto comunque un concept ben strutturato, professionale, l'hanno camuffato bene. Però non ho capito, perché ci sono aspetti interessanti, poi però ci sono aspetti talmente populisti, facili, buttati lì, proprio facciamo la canzonetta. Quindi sembra a metà tra il tentativo di una hit estiva e il tentativo di fare una di quelle canzoni di qualità ma che non piacciono più a nessuno. Di quelle che hanno grandi voci, no? No, 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 non mi piace affatto questa canzone. Non mi piace. Potevano fare meglio. Potevano prendere una bella canzone e magari essere un po' più vere. Ecco, questa canzone non è vera. Non mi sembra reale. Sembra una canzone falsa. Un po' una presa in giro, un po' una paraculata e quindi non mi è piaciuta. Punto. Poi, oh, magari è una bella canzone. Bisogna capire pure come la lanciano, no? E magari farà rumore. Rumore, rumore. Ma a me non mi ha detto niente. Considerando che ci sono Elisa e Giorgia, che sono le due, penso, cantanti donne che io rispetto più in Italia. Insomma, no? Facevano una canzone in stile luce o gocce di memoria. Facessero una cosa del genere, mai? No, non si azzarda quel tasto, perché si ha paura. Si ha paura di fare un qualcosa che poi rimane e che rimane troppo poco. Allora dici, se non possiamo fare una cosa che rimane per sempre, rendiamo noto che stiamo facendo una cosa che deve solo girare. E questo è il problema della musica di oggi, non di questa canzone. È il problema di quando ci si unisce. Che poi si fa fatica a progettare, a costruire un qualcosa di immortale. Soprattutto se l'hai già fatto. E hai paura di non riuscire a ripeterti. Per questo stimo gente come Renato Zero, che in ogni suo disco dà tutto se stesso per scrivere la nuova i migliori anni della nostra vita. E' chiaro, non ce la farà mai, perché è la canzone forse più importante della storia della musica italiana, la canzone più bella. Si può dire. C'è un tot, un numero di canzoni che tu praticamente puoi permetterti di dire questa è la canzone più bella scritta in Italia, ad esempio. E nessuno ti potrebbe contraddire, non è una, nessuno diverse. Ecco, Renato Zero ha scritto una di queste. E nei suoi dischi ci sono canzoni che le scrive e le interpreta come se fossero quel brano lì. Ecco, ed è quello che mi aspetto sempre dagli artisti. Certo, Elisa è brava perché si sa rinnovare e ci ha dimostrato che sa muoversi nel mercato, cosa che le sue coetanee non sanno fare molto. E ha fatto delle belle canzoni e ha portato a Sanremo una canzone di super qualità, eh? Di quella roba lì, quindi va bene. Elisa sa fare tutto. Il featuring magari poteva sfruttarlo per fare di più. E invece no, ci sta, ci sta. Bene così, insomma, saprà lei. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre. Grazie. Grazie. Grazie.